Le forti raffiche di vento hanno causato danni anche in provincia di Arezzo. Numerosi gli interventi dei Vigili del Fuoco, soprattutto in Casentino, nel Prato Magno Valdarnese e anche in città. Queste immagini si riferiscono ai danni subiti dall'insegna della Ivara Auto in via Calamandrei. I pezzi dell'insegna, alcuni pannelli, sono caduti sul piazzale dove solitamente sono parcheggiate le auto. Tra i numerosi interventi dei Vigili del Fuoco, da segnalare quanto accaduto a Prato Vecchio quando è intervenuta una squadra con un mezzo e cinque unità all'interno di un condominio, il vento ha divelto il lucernaio della tromba delle scale. Le raffiche di vento hanno superato gli 84 km orari.